Ossa nei sassi La conferenza di stasera ha per titolo Ossa nei sassi, perché stasera parleremo dei reperti fossili. E i fossili hanno sempre suscitato l'interesse sia della gioventù, sia di chi è più avanti negli anni. Cosa sono tutte queste ossa nei sassi e perché sono così diverse da quelle che vediamo oggi? Vedete, la scienza vorrebbe farci credere che tutto è accaduto milioni e milioni di anni fa e che queste creature girassero per il mondo in qualche periodo della storia e rappresentassero una forma di vita totalmente diversa rispetto a quello che abbiamo oggi. Come abbiamo visto già nella scorsa conferenza, abbiamo visto la colonna geologica che in totale non esiste da nessuna parte e abbiamo anche menzionato che si trovano delle creature in quella colonna geologica che la scienza dice riflettere l'evoluzione della vita da semplice a complessa. Almeno è così che viene presentato nei libri di testo, come viene presentato nelle scuole. E la teoria di base che viene trasmessa è che le eucariote, formata da un organismo unicellulare, va da quelli semplici a quelli che formano un nucleo, come abbiamo noi, che si evolvono in un periodo di milioni di anni. Ma circa 600 milioni di anni fa, improvvisamente, ci troviamo ad avere questa grandiosa documentazione della vita sulla Terra, iniziando con tutte queste creature attraverso il tempo, fino ad arrivare agli ominidi, nell'ultimo periodo di questo sviluppo. E ci viene detto che l'evoluzione è quella che riflette dalla semplicità alla complessità. Ed è così che viene presentato nelle scuole. Nell'area inferiore viene detto che ci siano delle creature primitive, come queste. Ma in realtà non ci sono creature primitive. Cerchiamo di raddrizzare questa cosa. Non esiste niente che si possa definire un organismo semplice. Ogni organismo su questo pianeta è altamente, altamente complesso. E quello che abbiamo qui sono animali marini. Animali marini sessili. In gran parte alla base della colonna. Le creature che strisciano nel fondo. E se andiamo un po' più in alto nella colonna, troviamo degli esseri che si muovono e che nuotano. Ma non c'è niente di semplice in questi organismi. Hanno dei sistemi biochimici altamente, altamente complessi. Sistemi anatomici. Con tutto lì. Tutto è stato sviluppato. Mentre saliamo nel siluriano, incontriamo altri animali striscianti e altro materiale. Poi arriviamo all'era detta Devoniano, conosciuta come l'età dei pesci. Quindi abbiamo tantissimi pesci nell'area Devoniano. E la documentazione è tutta coperta di pesci. Alcuni fossili di pesci sono veramente molto interessanti e li guarderemo tra un momento. E poi, salendo su, troviamo del materiale vegetale. Ed è interessante che il materiale vegetale che abbiamo rappresentato nel Mississippiano e nel Pensilvaniano escluda molte piante che fioriscono. O quelle moderne. Quindi si conclude che questi siano apparsi prima e che questi siano arrivati più tardi. Sebbene ci siano delle anomalie molto interessanti di cui parleremo più avanti. Ecco quello che la scienza dice che sembrava approssimativamente. Era un periodo di felci, di cicadacee ed altri organismi interessanti. Poi viene l'era delle creature più grandi. Prima si passava dalla fase degli anfibi, poi si passa all'era dei rettili, quella detta Triassico, poi Giurassico, quella Cretaceo, e improvvisamente si trova questa distruzione a tappeto di tutto, seguito dall'era dei mammiferi e poi gli uccelli. E ci viene detto che questo è un documento di come la vita si è evoluta. Ma ci sono diversi modi per ottenere un documento. Faccio un esempio. Se io ho uno stagno nel mio giardino e arriva un bulldozer con un carico di fango per coprire il mio stagno da un lato, come in una catastrofe, e se in fondo allo stagno si trovassero delle piante e degli animaletti che strisciano, e delle lumache nel fango e dei pesci rossi che nuotavano nello stagno e un'anatra che nuotava sopra, se si seppellissero tutte queste cose sarebbero sepolte in quella sequenza. Così scavando un giorno nello stagno troverei i vermetti nel fondo, le lumache un po' più su e i pesci. I miei pesci rossi li troverei conservati nel fango ancora più su e l'anatra più su ancora. Concluderei allora che dai vermi sono procedute le lumache e dalle lumache i pesci e poi l'anatra? Non necessariamente, giusto? La tendenza dei mammiferi e gli uccelli è quella di stare a galla. Quindi ci sono altri modi per spiegare questa struttura che troviamo nella documentazione dei fossili e non dobbiamo entrare in grandi dettagli. Vedremo com'è il quadro in generale. Allora, i fossili che troviamo stabiliscono anche la loro età. Per esempio, questo è il principio della correlazione di fossili. Se trovo questo particolare fossile in uno strato ad un punto preciso e trovo lo stesso fossile in un'altra zona anch'esso in uno strato traggo la conclusione che i due strati sono della stessa età. Allora, come viene determinata l'età dello strato? Dai fossili che ci sono nello strato. Quindi questo strato prende l'età dai fossili. E da cosa prendono l'età i fossili? Dallo strato. È un ragionamento circolare. Quindi questo è vecchio quanto lo strato perché il fossile è vecchio quanto lo strato e lo strato è vecchio quanto il fossile perché il fossile è vecchio quanto lo strato. Afferrato? Quindi non c'è età e qualunque età vorrete mettere, bene, sarà giusta. Qualunque vogliate. Ora, persino i vecchi libri di testo affermano se è coperto da sedimento umido il disgregamento è impedito. Per queste ragioni un rapido seppellimento è forse la più importante condizione per favorire la fossilizzazione. Le cose devono essere seppellite rapidamente in modo da non decomporsi e scomparire. E quindi ancora i sedimenti trascinati dall'acqua sono molto più ampiamente distribuiti di qualunque altro agente di seppellimento ed include la grande maggioranza dei fossili. Perciò ogni cosa sembra che deve essere seppellita in acqua e ogni cosa deve essere seppellita rapidamente. Cosa può seppellire rapidamente una balena o un dinosauro se non una grande catastrofe? Ogni cosa sembra essere seppellita in sedimenti acquosi ma non c'è stata una catastrofe d'acqua nessuna inondazione. Trovate un senso? Effettivamente non ha senso. Allora nei libri di testo moderni potete vedere figure come questa dinosauri e c'è un'eruzione di qualche vulcano questi sono un allosauro e uno stegosauro che vanno a zonzo sono stati seppelliti e dopo un poco abbiamo una qualche erosione che li mette allo scoperto quindi li troviamo e li studiamo questo è come tutto è accaduto ma non è realmente quello che vediamo ciò che realmente vediamo sono degli organismi trascinati in quel luogo dall'acqua ora quanto tempo ci vuole a fossilizzare qualcosa? Lo abbiamo già visto non ci vuole molto ricordate quell'orsacchiotto di pezza che si era fossilizzato in acqua contenenti un alto livello di minerali di cui c'era bisogno allo scopo qui vediamo un cappello è un cappello da minatore e si trova in un museo in Australia è venuto fuori da una miniera che era stata abbandonata circa 30 anni fa è diventato di solida pietra si è trasformato in pietra solida in un periodo di tempo molto breve va bene diamo uno sguardo a questi reperti fossili qui abbiamo alcuni pesci fossili come potete vedere qui sopra ci sono dei pesci ancora intatti a volte ci sono delle grandi aree coperte da pesci in Africa Sudafrica c'è un'area che chiamiamo Eka è uno di questi periodi devoniani e ci sono proprio un mucchio di questi pesci la cosa più interessante è che molti di questi pesci che troviamo sono intatti ma tanti tra loro sembrano essere senza testa quando ero studente andavo in giro guardando tutti questi ritrovamenti paleontologici pensavo tra me e me wow sembra che questi pesci siano vissuti durante la rivoluzione francese perché parecchi hanno perso la testa ma la cosa interessante in questi pesci è che quando un pesce giace nell'acqua ed è morto e si sta decomponendo la prima cosa che accade è che il legamento della testa si decompone rapidamente e la testa si stacca alla fine si gonfia tutte le squame cadono e dopo si deteriora ed in un periodo di tempo molto piccolo il pesce scompare quindi non abbiamo la fossilizzazione di queste creature sono soltanto scomparse e dissolte dai batteri e dai saprofagi ciò è quanto accade questi arrivano e quella cosa è andata andata ma qui qualcosa è accaduto e molti di loro sono perfetti questo significa che devono essere stati seppelliti istantaneamente alcuni di essi o molti tra loro non hanno la testa ciò significa che hanno galleggiato in acqua per alcuni giorni non molto tempo e poi sono stati seppelliti troviamo pesci come questi con pesanti squame ossee e quando lo vediamo è primitivo sapete questa è una caratteristica molto avanzata pesanti squame ossee e se le vediamo in un pesce moderno come lo storione che ha squame ossee pesanti cosa viene detto sullo storione che è un pesce primitivo è un pesce molto primitivo perché perché sembra vecchio e primitivo fanno esattamente la stessa cosa con il rinoceronte il rinoceronte sembra proprio rugoso e antico non è vero? lo guardiamo e diciamo bene questo è un animale molto antico deve avere un'origine antica ma nei fatti è un mammifero sveglia quando sono apparsi i mammiferi? in tempi recenti per essere in accordo con la teoria evoluzionistica quindi non possiamo farci indicare i dati dalla nostra mentalità dovete prenderli per ciò che sono qui vediamo un pesce moderno con squame ossee che non è antico vive ai nostri giorni questo è uno storione è quel pesce da cui prendiamo il caviale se ne siete a conoscenza poi troviamo strati fossili coperti proprio da squame ossee niente come questo accade oggi le squame si dissolvono nel mare dopo un po' potete scavare nel profondo del mare non troverete i mucchi di squame che possono fossilizzarsi non esistono per cui questo è catastrofismo è molto simile alla corteccia che è strappata dagli alberi quando rotolano nell'acqua e viene seppellita ci sono strati di corteccia che non hanno alcun senso a meno che non abbiate una catastrofe qui abbiamo alcune caratteristiche interessanti pesci piccolo grande seppelliti insieme e a volte possiamo avere dei fossili dove un pesce sta mangiandone un altro nel momento in cui viene fossilizzato quindi cosa sta accadendo qui ovviamente durante tale evento questo pesce stava nuotando in giro dava un morso e prima che potesse dire Jack Robinson cosa accade? viene seppellito è andato ciò è esattamente quanto è accaduto questo si chiama catastrofismo e questo fossile qui sopra è un pesce che è assolutamente perfetto potete vedere persino i segni delle increspature intorno questo pesce è stato letteralmente seppellito vivo istantaneamente perché la preservazione è perfetta l'ossigeno è stato tagliato istantaneamente la scienza ci vuole dire che non abbiamo una raccolta completa dei reperti fossili perché le creature con corpo molle non fossilizzano regolarmente questo non è vero ci sono milioni di fossili di creature dal corpo molle eccone uno questa è una medusa potete vedere che è perfettamente conservata abbiamo tutti i tipi di creature corpi molli e non molli perfettamente conservati nei reperti fossili non c'è alcuna ragione per dire che essi non si trovano perché non si fossilizzano rapidamente nel libro evoluzione della vita leggiamo nel corso del tempo il vento l'acqua del ghiaccio hanno spezzato e distrutto le rocce che si erano sollevate per formare i continenti che esista una documentazione fossile a tutti sembra piuttosto straordinario questo è un punto affascinante pensateci qui avete tutti gli strati geologici che contengono tutti questi fossili ora prendete una catena montuosa ad esempio che si erode rapidamente la erodete completamente e la rimuovete cosa avete rimosso? una registrazione del tempo con tutti i fossili in essa e quindi diciamo per esempio la catena dell'Himalaya che viene erosa almeno due metri ogni mille anni questa è l'esatta misura che ci viene data circa due metri ogni mille anni quindi è proprio un poco di più di due yard sparito ora ciò che è veramente interessante se è così se la state sfregando via come mai la montagna è ancora lì? bene la scienza fornisce la risposta e dice la montagna è ancora lì perché viene sollevata la chiamiamo orogenia sollevamento della montagna ora questo va bene è una bella teoria e la montagna sta proprio sollevandosi ancora potete misurare il ratio di crescita che più o meno prende il posto del ratio di erosione della cima ma ora c'è un problema se il processo è durato per milioni di anni cancellando la cima ed avendo la crescita perché la state sollevando dal basso potete ancora avere la registrazione della storia del mondo in cima? si o no? non potete avere la torta ed averla già mangiata non potete sfergarla via e dire è stata rosa ma è ancora là perché l'abbiamo sollevata e poi avere ancora il materiale che si trova ancora là alla base invece no abbiamo ancora là l'intera registrazione così non può essere quindi deve esserci qualche difetto nella storia in un modo o nell'altro c'è un problema come possiamo ancora avere reperti fossili quando sono ripetutamente stati eradicati da un processo chiamato erosione per milioni e milioni di anni e così alcuni scienziati hanno questa affermazione scherzosa la geologia storica è una registrazione degli eventi dei quali molti di loro hanno avuto luogo in un tempo nel quale non sono mai esistiti beh diamo un'occhiata a cosa la scienza ha da dire la rivista Time ha preso dagli scienziati e annunciato a tutto il mondo in modo che la gioventù e tutti quanti siano informati su evolvere a velocità supersonica vedete quando ero uno studente diplomato all'università mi veniva insegnato il darwinismo il darwinismo ha una logica di per sé ma il darwinismo richiede ciò che chiamiamo gradualismo un cambiamento graduale nel tempo da una forma ad un'altra questo è il gradualismo ma se guardate ai reperti fossili non vedete il gradualismo gradualismo significa che siete capaci di cogliere piccole differenze nel tempo e che avete un quadro dal reperto fossile primitivo a quello avanzato non è logico? questo è quanto vi aspettate ma non lo trovate nei reperti fossili in realtà ciò che trovate è che le creature sono là quindi ora avete un problema per cui il neo darwinismo viene alla luce persone come Stephen Jay Gould e tutti i costoro che hanno lavorato a Harvard dicono no quello che è accaduto è questo ci sono stati lunghi periodi di stabilità e poi cambiamenti rapidi per questo non vediamo nessuno di questi collegamenti tra loro quindi evolvere a velocità supersonica quanto rapidamente evolvono queste cose quando la vita esplosa il big bang dell'evoluzione animale questo è uno scritto scientifico ed è stato pubblicato dalla rivista Scientific American una raccolta di eventi come noi li conosciamo oggi ora diamo un'occhiata a chi lo ha pubblicato la persona si chiama Jeffrey Levington professore presidente del dipartimento di ecologia ed evoluzione all'università di stato di New York Stony Brook per cui lui è una persona che è meglio qualificata per dirci quale sia lo stato delle cose oggigiorno quindi chiediamo agli stessi scienziati quale sia lo status quo lui scrive l'esplosione cambriana questo è lo strato più basso dove la vita improvvisamente puff appare è stata caratterizzata dall'improvvisa e brusca apparizione simultanea di molte diverse forme di animali almeno 600 milioni di anni fa in nessun altro periodo della storia della vita animale possiamo misurare questo notevole scatto di creatività evoluzionistica ciò è molto interessante e poi parla delle creature che erano già presenti è una prova che è stata ottenuta sequenziando l'RNA ribosomale 18S il quale suggerisce che molte specie e molti fila ora cos'è un fila è una vasta categoria di animali per esempio tutte le chiocciole tutte le lumache tutti i molluschi marini tutti i calamari ed i polipi e tutti quanti loro costituiscono un filum e quindi avete gli artropodi tutti quelli che hanno zampe snodate tutti i granchi tutti gli insetti ogni piccolo gambero tutti questi che vanno girando questo è un altro filum quindi queste sono vaste categorie di animali e loro stanno suggerendo che i fila molti fila sono apparsi simultaneamente questo significa che boom sono là Stephen Jay Gould scrive breve si è rivelato essere molto più rapido di quanto qualcuno avesse mai pensato questo è un articolo della rivista Nature nella sezione paleontologica questa è la migliore rivista così viene creduto nel mondo l'articolo di esso non su di esso dice i vecchi libri di testo proclamano che il nostro filum ora lasciatemelo mettere in questa prospettiva il gruppo al quale noi come umani apparteniamo viene supposto essere l'apice dell'evoluzione dove veniamo inseriti proprio alla fine del processo non è vero noi appariremmo per ultimi questo filum quindi i vecchi libri di testo proclamano che il nostro filum i cordati non compaiono fino al seguente periodo ordoviciano e che quest'ultima evoluzione deve implicare uno stato avanzato ma l'argillite di Burgess contiene un cordato questo che cosa significa? bene loro lo identificano un cordato dalla fauna Changyang ora determina il destino di questi sforzi forvianti nell'asserire la singolarità della nostra stirpe i cordati si sviluppano nell'esplosione cambriana ops che cosa significa? significa che ogni filum ogni gruppo incluso quello al quale apparteniamo era già lì fin dal principio questo è un problema grosso durante il passato decennio comunque la scoperta e lo sviluppo di altra fauna meravigliosamente preservata di organismi cambriani con corpi molli a Changyang in Cina ha provato che notate una piena diversità era stata raggiunta all'interno dell'esplosione stessa ciò significa ogni cosa qualunque forma di vita genere che esiste oggi era là da quando? da quando? dal principio ora non me lo sto inventando questi sono nel mondo i più importanti scienziati del campo ogni cosa era là fin dal principio nella mia stessa vita ho cominciato con il pensiero gradualista questa è l'unica alternativa logica il darwinismo è l'unica alternativa logica ora vi prego di non confondere la logica con l'esattezza qualcosa può essere perfettamente logico ma può essere perfettamente sbagliato allo stesso tempo ok? quindi il darwinismo è l'alternativa logica nella scienza noi vedremo il darwinismo e vedremo quali sono i difetti nel darwinismo ma ogni cosa compare nello stesso tempo non può essere quindi dovete cambiare per cui arriviamo a ciò che viene chiamato equilibrio punteggiato suona molto simpatico questo significa equilibrio lunghi periodi di niente e poi boom punteggiato cambiamento rapido ogni cosa è lì ma sapete non ci vuole molto a fare un altro passo avanti e dire se tutto era lì fin dal principio allora cosa era? creazione giusto? vi sembra aver senso? potrebbe anche essere creazione ora questo è qualcosa di totalmente nuovo? no lo scrive Charles Darwin affrontò questa sfida verso le sue preferenze gradualistiche le cose cambiano molto nel tempo con onestà propria scrivendo nella prima edizione della origine della specie strano che sia poi scomparsa il caso al presente rimane inesplicabile e potrebbe essere veramente messo in evidenza come un valido argomento contro le vedute fin cui prese in considerazione quindi loro lo sapevano fin dal principio per cui c'è qui un qualcosa del tipo reperto fossile che mostri che le cose si siano sviluppate dal semplice al complesso la risposta è no quello che abbiamo sono degli organismi complessi in modo completo allo stesso tempo ora quando loro lo mettono nell'albero evoluzionistico come questo alla fine non avete un albero evoluzionistico avete quello che chiamiamo dei prati evoluzionistici ora un albero ha un tronco ciò significa che comincia con uno e poi continua e quindi abbiamo i rami che sfociano in tutti i vari rami quindi tutto comincia semplice sviluppa ed allora tutte le cose differenti cominciano a sviluppare questo è l'albero della vita tutte queste differenti creature nei loro posti cominciando da un organismo e diventando di più di più di più questo è ciò che la scienza vorrebbe insegnarci ma sfortunatamente non è accaduto in questo modo quello che abbiamo è un prato tutti i fili d'erba spuntano nello stesso tempo quindi le rane erano come sono oggi le rane hanno sempre avuto quell'aspetto proprio come i reperti e i pesci hanno avuto quell'aspetto e gli squali hanno avuto quell'aspetto e qualunque altra cosa le lampreede tutti questi hanno avuto quell'aspetto ed alcuni di loro non ci sono più in giro abbiamo qualcosa di simile che vive oggi e quindi loro li collegano tutti insieme suggerendo che provengono da un antenato comune ma questa linea qui in basso che collega tutti loro cosa è? è una congettura da dove proviene? proviene dalla mente non proviene dai fossili è molto importante capirlo quindi se guardiamo i rettili ad esempio le tartarughe non troverete mai una tartaruga formata a metà o un quarto di tartaruga oppure un terzo di tartaruga o un pezzo di qualcosa che sta sviluppandosi in una tartaruga quando una tartaruga appare tra i reperti fossili che cosa è? è una tartaruga finito se appaiono delle lucertole sono delle lucertole serpenti sono serpenti eccetera eccetera in tutti i sensi e i collegamenti sono delle congetture diamo un'occhiata ad alcuni criteri richiesti dai processi evoluzionistici numero uno progresso dal semplice al complesso questo sarebbe logico giusto? questo è quanto l'evoluzione richiede numero due l'evoluzione richiede uno sviluppo dal piccolo al grande viene chiamata la legge di Carroll Carroll era uno scienziato che disse ogni cosa è dovuta cominciare dal piccolo per sviluppare nel grande non c'è altra strada è logico pensateci non cominciate con i rinoceronti per finire con una meba cominciate con una meba e sviluppate tutto fino ai rinoceronti sarebbe logico è corretto? quindi è un'assunzione perfettamente logica che fareste se l'evoluzione fosse corretta ed anche se la vita fosse cominciata fortuitamente in qualche modo da qualche parte sul pianeta immediatamente c'era quindi sarebbe stata da sola alla fine sarebbero dovuti diventare di più di più di più se la teoria è corretta e quindi siamo partiti da una scarsa diversità ad un'alta diversità questo è logico questo è quanto dovresti aspettarti bene cosa abbiamo? non abbiamo nulla di tutto questo non abbiamo una complessità non riducibile improvvisamente sono lì ed alcune delle caratteristiche tra quelle che abbiamo non possono più essere semplificate non funzioneranno se vengono semplificate quindi devono essere complete ogni cosa deve essere a posto alcuni degli organelli e delle strutture negli organismi viventi sono così complicati e necessitano di così tanti blocchi costruttivi e parti che se non sono completi non possono funzionare ogni cosa deve essere a posto allo stesso tempo quindi non abbiamo un progresso da semplice e complesso tutto è sempre stato complesso quindi abbiamo da piccola grande? no se andiamo nella storia passata ogni cosa era grande e grossa e più grandiosa che non sia oggi oggi abbiamo soltanto una frazione di cosa poteva esistere in termini di taglia ed in termini di diversità abbiamo una diversità inversa ci saremmo aspettati da pochi a tanti ma troviamo molte più creature nel passato di quante esistano oggi infatti abbiamo soltanto una frazione rimasta rispetto a quante ne vivessero quindi noi troviamo esattamente l'opposto di quanto ci si potesse aspettare bene questo è un problema Stephen Gould nel suo articolo ritorno dei mostri ambiziosi in Natural History ora questi sono i massimi scienziati Stephen J. Gould ora è morto ma il suo lavoro vive ancora gli alberi genealogici che adornano i nostri libri di testo sono basati su deduzioni vanno fuori di testa quantunque ragionevoli non sulla prova dei fossili quindi per questo la teoria di Darwin è quanto ci aspettiamo a essere logica se fosse vera ma non troviamo questo troviamo esattamente l'opposto e gli alberi genealogici sono basati su deduzioni quindi quando andate a reperti fossili e guardate per l'evoluzione del cavallo questo è quanto viene presentato quindi andate da questa minuta piccola creatura che di solito viene chiamata Eohippus oppure veniva chiamata Irakotherium e l'hanno cambiata in Eohippus si sviluppa fino al cavallo moderno in questo strano piccolo coso qui sotto lo Irakotherium è presentato così ma il suo nome era Irakotherium perché assomigliava ad un irace un irace delle rocce infatti non era altro che un tipo di irace delle rocce se andiamo avanti con le altre creature fino ad arrivare ai cavalli hanno disposto i cavalli dal piccolo al grande è logico ma è necessariamente giusto se vedessi un mucchio di teschi di cane immaginatelo nella vostra mente se vedessi un mucchio di teschi di cane ogni concepibile tipo di cane del mondo e dici sì ecco qua e voi non avete mai visto dei cani prima e dico disegnatemi un albero evoluzionistico che fareste? che fareste? come li ordinereste? da cosa? dal piccolo al grande quindi il chihuahua sarebbe proprio in fondo eccolo e poi come sviluppereste il vostro albero? che fareste? beh mettereste tutte le creature che hanno una sorta di faccia piattita e tra cagnotta e le mettereste sul primo ramo non è vero? quindi avreste il vostro bulldog ed il vostro carlino e tutti quelli come questi da un lato ed il boxer ordinato dall'altro e nel mezzo avreste questo genere in mezzo a quelli forti e a destra cosa avreste? qualcosa come il genere di macchine magre snelle e affusolate i levrieri e quelli afghani con loro muso lungo e perciò un bell'albero e sarebbe perfettamente logico ma sarebbe corretto? no sarebbe assolutamente sbagliato perché? perché in primo luogo non proverrebbero dal chihuahua infatti provengono dalla razza dei lupi e l'evoluzione è inesistente questa è la varietà che viene trovata all'interno dei tratti genetici dal più piccolo al più grande quindi quel qualcosa che vorreste pensare non riflette affatto l'evoluzione viene dalla mente lo stesso qui sopra queste creature qui sopra sono state seppellite come reperti fossili in questa sequenza? dal piccolo al grande? sì o no? la risposta è no erano tutti lì nello stesso periodo erano contemporanei e voi state portando un cumulo di ossa a uno scienziato e lui nel laboratorio dove è seduto disegna l'albero è basato sulla deduzione quantunque ragionevole non la prova dei fossili questo è il nocciolo della questione allora oggi abbiamo cavalli minuscoli? sì questo è il cavallo più piccolo guardate quanto è piccolo relativamente alla mano e questo è il cavallo più grande questa è la variazione nella razza del cavallo oggi non ha nulla a che fare con l'evoluzione nulla a che fare con l'evoluzione questo è un cavallo antico e questo uno moderno? no vivono entrambi nello stesso tempo avete l'intera gamma qui sopra questi cavalli sono magnifiche creature ma sono totalmente differenti dagli altri cavalli questi sono una razza speciale di cavalli che trovate soltanto in Islanda hanno delle caratteristiche che sono totalmente diversi dai cavalli moderni ma sappiamo che questi cavalli sono derivati da normali cavalli che i vichinghi hanno portato in Islanda 1200 anni fa quindi questi cambiamenti che vediamo sono da mettere in conto ma questo non è altro che un normale cavallo quindi ora andiamo ai dinosauri e a tutte queste interessanti creature bene qui abbiamo un articolo del Time Magazine sui dinosauri sorprende che tutto ciò che credi è sbagliato beh niente di nuovo a cosa assomigliano? che cosa erano? hanno dato origine agli uccelli come viene detto nel mondo oggi? qui abbiamo una sorta di immagine artistica nel periodo mesozoico con tutte queste creature che se ne vanno in giro sono morte nell'acqua calda? come sono morte? perché sono esistite soltanto nel Triassico nel Giurassico nel Cretaceo dove sono andati a finire? questo è un tipico albero dell'evoluzione dei dinosauri cominciando dagli anfibi e quindi di come si sono evoluti e ci sono tutti quelli moderni posizionati in cima all'albero è vero o è una congettura? che cos'è? è una congettura deduttiva ma non è basata sui fossili quindi come ci sono arrivati? hanno tutte le creature lì sono tutte nello stesso strato li prendono e li mettono insieme c'è qualcosa che ci faccia risalire a uno stegosauro o uno di questi? un brontosauro o un tirannosaurus rex? oppure ad un triceratopo qui sopra? c'è niente che ci faccia risalire a loro? sì o no? no quando loro erano là erano là e basta questo è quanto avete ogni cosa finita è pronta guardate qui nella vostra nazione la grande formazione di Morrison dove avete molti molti dinosauri avete una selezione avete abbondanza di uno solo l'allosauro dov'è il resto? era presumibilmente un carnivoro? cosa mangiava? perché anche questi altri non si sono fossilizzati? qui c'è uno strano montaggio di fossili e poi se guardate loro queste creature sono orientate nella direzione del flusso della corrente c'è un allosauro per voi oppure questo qui sopra il terribile terrore tirannosauro rex ora cosa gli è accaduto? era un feroce feroce carnivoro? cosa ha fatto Jurassic Park con questa creatura? tutti scappavano gridando dalla paura è corretto? perché questo feroce carnivoro stava per distruggere ogni cosa sul suo cammino perché è un feroce carnivoro? a causa dei suoi denti giusto? ora se guardate a questa creatura dovete ricordare poche cose questo era un animale gigante che camminava su due zampe con minute e piccole mani di fronte se avesse dovuto afferrare qualcosa con che cosa l'avrebbe afferrata? con le sue zampette frontali e avrebbe dovuto chinarsi e provare ad afferrare con la sua bocca mentre questa creatura cercava di scappare via ora c'è una legge nella scienza che determina cosa possa essere un carnivoro e cosa non lo possa essere vedete un elefante sarebbe un carnivoro molto scarso perché? perché è troppo grosso è troppo ingombrante ha un momento troppo grande quando corre riuscite ad immaginare un elefante che cerca di afferrare una gazzella e la gazzella sta andando e l'elefante sta andando e la gazzella e l'elefante altre cinque miglia e fa una svolta ad u e cerca di tornare indietro lasciamo perdere sarebbe inutile come carnivoro quindi cosa fanno? mangiano piante potrei ancora concepire che un elefante si nutra di carogne forse ma sarebbe sufficiente da mangiare? sarebbe una vita catastrofica se persino una volpe diventa sottile come un rastrello per trovare cibo a sufficienza non è vero? quindi grossi animali come questi solo dall'enorme massa corporea sarebbe un carnivoro relativamente inutile e allora questi denti questi denti sono dentro degli incavi poco profondi quindi vanno bene per tritare come tritano le macchine trinciatrici ma afferrando e strappando finestre senza denti sapete? non sarebbe molto efficiente quindi queste creature erano ciò che crediamo fossero? ossa fresche di t-rex questo è nel Journal of Science sembrava un pezzo di osso moderno ma naturalmente non potevo crederci dissi ai tecnici di laboratorio dopo tutto le ossa hanno 65 milioni di anni come hanno potuto sopravvivere così a lungo le cellule sanguigne? vedete abbiamo trovato ossa con cellule sanguigne in loro ancora intatte possono essere vecchie di milioni di anni? sì o no? queste sono domande che fanno tentennare la mente forse queste creature non sono vissute molto tempo addietro e forse queste creature non sono state quello che la scienza vorrebbe farci credere che fossero se andate in un museo di storia naturale uno qualunque questo è quanto vedreste dinosauri che vanno dappertutto e cosa fanno? si fanno a pezzi l'uno con l'altro non è vero? si fanno a pezzi l'uno con l'altro emorragie e fiotti di sangue uno che urla e scappa mentre gli altri lo mordono sui lati questo è quanto vedete là qui ne vedete un altro che proviene dal British Museum of Natural History questo viene attaccato ed avete molto sangue e tagli e lacerazioni e la scena che avete vedete il sangue intorno al muso ed il sangue intorno ai piedi e tutte queste cose e queste cose sono raffigurate come estremamente feroci abbiamo oggi delle creature che hanno braccia molto corte di fronte e grosse zampe dietro? si abbiamo i canguri sono grandi carnivori li avete mai visti correre in giro e uccidere ogni cosa? con il sangue dappertutto? no non l'avete visto lo sapete l'anatomia non è affatto idonea a questo quindi qual è la storia fin qui? è proprio così? allora avete piccoli minuti dinosauri come questo alcuni dinosauri avevano la dimensione di un pollo non molto grande sapete che i rettili continuano a crescere e diventano molto 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 vecchi? se prendete le testugini per esempio se avete una testugine di pochi giorni quanto è grande? è così grande è così grande e se tornate dopo 300 anni se sopravvivete così a lungo quanto sarebbe grande? sarà così tanto grande giusto? e quindi nelle isole Galapagos avete delle enormi testugini ora se tornate dopo circa mille anni quanto grandi sarebbero? oh sarebbero una cosa alquanto grande giusto? e oggi noi abbiamo alcune creature molto sorprendenti qui ce n'è una in mostra nel museo di storia naturale a Londra potete vedere dalla scala delle cose queste cose erano enormi questa creatura era probabilmente una creatura di palude che camminava nelle paludi e si cibava nelle paludi e qui c'è un triceratopo ovviamente un erbivoro guardate il suo muso è esattamente come ogni altra creatura che mangiasse piante le testugini hanno musi come questo quindi era un erbivoro allora aveva questo feroce corno sulla sommità perché bene vedete doveva proteggersi contro cosa? contro tutti questi feroci carnivori ed aveva questo enorme meccanismo di difesa per farlo questo è quanto la scienza sta insegnando ai giovani di oggi e questa è l'immagine che ne abbiamo noi pronto? cos'è questo? è un camaleonte che ha tre corni sulla sommità questo è un moderno triceratopo uno piccolino alcuni camaleonti sono alquanto grandi come questo altri sono molto piccoli abbiamo tutti i tipi di varietà e questi corni qui sopra sono per proteggerli contro i feroci carnivori che sono intorno vero o falso? molto falso a cosa servono questi corni? questi corni servono a sembrare sexy esattamente quando una femmina guarda questi corni le sue ginocchia cominciano a vacillare ed è ciò che accade ora questa è una cosa veramente comune in natura se prendete le renne ad esempio a cosa assomigliano le renne nella stagione degli amori? a cosa assomigliano i maschi? hanno queste ilurmi corna è impressionante, vero? e più sono grandi più è vanitoso, vero? arriva la stagione degli amori ed i maschi provano le loro corna mentre le femmine guardano e sono molto impressionate e quelli con le corna più grandi lo sapete come la gioventù odierna con la migliore acconciatura dei capelli prendono le femmine e questo è il modo in cui funziona ogni cosa funziona così cosa accade dopo la stagione degli amori alle corna delle renne? cadono ora cosa succederebbe se fossero veramente là per tenere lontani i feroci carnivori? sarebbero in grossi guai per la maggior parte dell'anno, giusto? nulla per proteggersi questa è una mentalità che è stata inculcata nelle menti degli uomini che non ha fondamento nella realtà e queste creature erano probabilmente non differenti dalle lucertole e dalle creature che abbiamo oggi soltanto più grandi ogni cosa era più grande troviamo uova di dinosauro, sì ed abbiamo musei che le raffigurano nei loro piccoli nidi che si schiudono pretendono che tutto fosse molto normale e noi possiamo trovare le uova, sì ma come troviamo queste uova nei reperti fossili? sono state tutte trascinate in una grande fiumana tutte sono state sepolte in un catastrofico deposito alluvionale non c'è niente di simile là fuori come ambiente naturale che pretenda di essere qualcosa di simile ad oggi orme di dinosauro da ogni parte se guardate il percorso dove queste orme sono state lasciate allora appare che nel passato tutti gli animali camminano verso l'alto perché la maggior parte delle impronte sembrano andare in salita non dovete vedere la topografia di oggi dovete guardare quello che poteva essere perché ci devono essere stati sollevamenti e sprofondamenti quindi quando questi animali hanno creato queste impronte le stavano facendo nel fango e sembra che stessero correndo verso l'alto perché gli animali correrebbero sempre verso l'alto? cosa fa andare gli animali verso l'alto? forse un'inondazione che inalzava l'acqua? è una possibilità? ci sono oltre 100 teorie pubblicate sull'estinzione dei dinosauri che vanno dall'affascinante all'assurdo qualcuna di loro spiega la morte dei dinosauri? quali sono i fatti? perché ci sono così tante teorie per spiegare qualcosa che è perfettamente ovvio? tutti quelli che troviamo sono sepolti in una vasta piana alluvionale trascinati in quella posizione esattamente orientati dalle acque alluvionali qualunque uovo ci fosse stato è stato trascinato in quella posizione ma nessuno di loro è morto nell'alluvione? vi pare abbia senso? per me non ha alcun senso andiamo a vedere gli uccelli ora, gli uccelli questo è un argomento a sé stante quindi lo lasciamo per la prossima sessione bene i dinosauri hanno fatto sorgere gli uccelli? è una domanda veramente interessante la scienza dice sì almeno è questo che ci viene insegnato questo è ciò che viene insegnato ai bambini oh sì qui vediamo gli oviraptor e i velociraptor e tutte queste creature dallo strano aspetto sono dappertutto e sono raffigurate nel prendersi cura delle loro piccole uova ed abbiamo dei fossili dove ci sono delle penne e c'è una transizione dai dinosauri agli uccelli Archeopteryx un fossile molto famoso attualmente viene accettato generalmente che l'Archeopteryx fosse un uccello con penne per il volo completamente formate e con l'osso dei desideri questo è il primo candidato di oggi per la transizione questo è il Sinosauropteryx e qui c'è il fossile se guardate attentamente vedrete queste piccole cose qui sopra che sembrano impronti di penne sebbene non siano del tutto molto chiare vogliamo vedere cosa dicono a proposito i massimi scienziati nel campo queste sono tutte le pubblicazioni in riviste come il Journal of Science che è ovviamente l'equivalente del Nature quindi una grande rivista nuove ricerche mostrano che gli uccelli mancano del pollice embrionico che i dinosauri avevano suggerendo che è alquanto impossibile per le specie essere strettamente imparentate qui abbiamo un'altra affermazione una squadra guidata dall'esperto di uccelli Alan Feduccia preside di biologia all'University of North Carolina ha studiato gli embrioni degli uccelli sotto il microscopio e ha pubblicato i loro studi nella rivista Science un gruppo guidato da John Rubin un esperto di fisiologia respiratoria alla Oregon State ha anche analizzato i profili fossilizzati degli organi interni dell'ossino sauropteryx i suoi polmoni ammantice non possono essersi evoluti nei polmoni ad alte prestazioni degli uccelli moderni come vedete è molto più che soltanto penne Rubin e l'anziano esperto di uccelli Larry Martin credono che le cosiddette tracce di penne siano in realtà delle fibre sfilacciate di collagene al di sotto della pelle quindi forse non sono affatto penne l'esperto di penne Alan Brush della University of Connecticut a Storrs mostra che esse mancano dell'organizzazione trovata nelle penne moderne quindi queste non sono affatto delle penne è questo che loro stanno dicendo? guardiamo i polmoni per esempio quella prima storia i mammiferi hanno polmoni come questi dove l'aria entra in piccole sacche come dei palloncini inspirate e il palloncino si riempie espirate e il palloncino si svuota e questo è il modo in cui riempite i vostri polmoni quindi ogni volta che riempite i polmoni mescolate l'aria dall'esterno con l'aria che è già nei polmoni e c'è meno ossigeno rispetto a quando la miscela non avviene quindi ora se vi arrampicate quando arrivate a una certa altezza rimanete senza fiato perché? beh, l'aria diventa rarefatta c'è meno ossigeno e stai lottando e stai mescolando quindi se andate in cima al monte Everest cosa dovreste prendere con voi per sopravvivere? una bombola di ossigeno dovete prendere una bombola di ossigeno allora vi rialzate con il vostro ossigeno e provate a sopravvivere e mentre siete in piedi e guardate il panorama sentite e cosa vola sopra la vostra testa? uno stormo di oche e dite cosa hanno loro che io non ho? come fanno a stare là sopra e io non posso starci? beh, vedete gli uccelli hanno dei polmoni differenti non hanno sacche d'aria dove c'è una miscelazione dell'aria come nel nostro caso gli uccelli hanno un grappolo di sacche prima dei polmoni e un grappolo di sacche dopo i polmoni e l'aria passa diretta attraverso piccoli tubicini quindi l'anatomia e la fisiologia è totalmente differente in un polmone d'uccello rispetto a quella di un polmone di un rettile o di un mammifero quindi uno non può mai svilupparsi nell'altro ed anche le penne sono delle strutture talmente complesse che non possono svilupparsi in modo incrementale per essere efficienti avrebbero dovuto essere lì completamente formati oppure sarebbero state inutili per volare una delle due quindi qui abbiamo dei grossi problemi nella fisiologia qui ci sono alcune altre affermazioni Storz Olson sovrintendente per gli uccelli del National Museum of Natural History dello Smithsonian Institute scrisse in risposta ad un articolo del National Geographic che ha martellato in tutto il mondo che è un fatto che gli uccelli discendano dai dinosauri ascoltate quanto da dire loro questo esperto le immagini dei dinosauri pennuti sono semplicemente immaginarie e non trovano posto al di fuori della fantascienza lo avete mai sentito dire a livello scolastico? sì o no? no nessuno l'ha sentito avete sentito della propaganda di una sola campana infatti questa è scienza disonesta perché è basata su una bugia l'idea di dinosauri pennuti e dell'origine degli uccelli dai teropodi viene attivamente promulgata da un gruppo di zelanti scienziati che agiscono di concerto con alcuni editori di Nature e National Geographic quindi sembra esserci un'agenda nel mondo scientifico gli stessi che sono diventati esplicitamente ed altamente tendenti a far proseliti della fede la verità e l'accuratezza scientifica nel valutare la prova sono state tra le prime vittime nei loro programmi che stanno ora diventando tra le più grandiose bufale della nostra era l'equivalente paleontologico della fusione fredda non c'è nulla di simile ed ancora i nostri figli continuano ad esserne soggetti ogni singolo giorno Alan Feduccia, preside del dipartimento di biologia alla University of North Carolina scrive è biofisicamente impossibile far evolvere il volo da un così grande bipede con zampe anteriori ridotte e pesante coda per bilanciare esattamente l'anatomia sbagliata per il volo il teropode, dinosauro, origine degli uccelli secondo la mia opinione sarà la più grande fonte di imbarazzo della paleontologia del ventesimo secolo pensate che la scienza ne terrà conto? ne dubito lo stanno predicando ed insegnando perché questa è l'unica soluzione che hanno perché da dove vengono gli uccelli se non provengono da qualcosa? perché Dio non può essere riconosciuto mai la creazione non può essere riconosciuta la complessità deve cadere dal cielo beh, cosa sono queste? sono le famose pietre di Ica del Perù cosa sono? sono pietre disegnate da antiche culture indiane e cosa abbiamo qui? questo è un triceratopo, se mai ne ho visto uno lei lo potete vedere perfettamente chiaro questi sono rettili volanti sono pterodattili non c'è alcun dubbio su questo e c'è una persona che vola sopra di loro? molto interessante e ci sono tutte queste creature sulla pietra di Ica è possibile che uomini e queste creature siano vissute contemporaneamente? da dove deriva la leggenda? dai draghi e combattimenti conoscete quegli antichi scrittori che non scrivono mai di scienza ma poeti o solo storici scrivono molto generalmente ma solo di passaggio menzionano queste creature che chiamano draghi vivono in Africa o nella giungla qui e là e dovunque ci sono molte, molte, molte occasioni dove ci sono registrazioni di tali avvistamenti e poi avete queste strane cose qui sopra non credo che le lucertole nel passato fossero alquanto differenti dalle lucertole che abbiamo oggi se prendete queste lucertole moderne che vivono oggi il basilisco che corrono per i torrenti della giungla e guardate questa creatura non vi sembra che sia qualcosa uscita dalla fantascienza? non è carina? penso che sia assolutamente deliziosa ma immaginate un paleontologo che trova un fossile di questo che ci farà? sarà la creatura dall'aspetto più feroce sotto il sole quando alla fine è una deliziosa piccola cosa che sta qui ed è per il divertimento degli occhi George Gaylord Simpson uno dei decani dell'evoluzione disse è stato suggerito che tutti gli animali sono ora specializzati e che le forme generalizzate sulle quali conta il maggior sviluppo evoluzionistico sono assenti infatti tutti gli animali sono sempre stati più o meno specializzati ed una forma vivente realmente generalizzata è soltanto un mito oppure un'astrazione cosa significa in linguaggio semplice? dice non c'è nessuna cosa come un animale semplice che diventa complicato è un mito quando guardiamo ai reperti fossili ogni cosa è complicata allo stesso tempo cosa abbiamo nel mondo di oggi? gli scienziati concordano che il mondo affronta un'estinzione di massa o un quarto dei mammiferi affronta l'estinzione resta soltanto il 10% dei grandi pesci oceanici questo è ciò che è il mondo sapendo che questo è un fatto quindi ogni cosa sta scomparendo ciò spiega perché ogni cosa era maggiore in passato rispetto a oggi ha un senso? se noi stiamo lentamente e lentamente cancellando le cose tramite l'estinzione presto o tardi cosa avremo? niente del tutto la selezione naturale sta facendo un grande lavoro nel rimuovere ogni cosa dal pianeta quindi se noi guardiamo nel passato vediamo un mondo molto più grande di quello di oggi e la scienza sta distorcendo il quadro non è quello che sembra loro queste creature erano soltanto in giro quindi giovani se il mondo fosse mai restaurato come quello che era che delizia che sarebbe? se guardate i reperti fossili avremmo strane creature nel passato che non vivono oggi ma cos'è un ammonite? un ammonite è una creatura simile al calamaro altamente altamente complessa che viveva in una conchiglia e nuotava nel mare proprio come i calamari moderni senza la loro conchiglia quindi qui avete queste creature che sono complesse non c'è niente di semplice in loro questi sono i trilobiti raffigurati come antichi ed è il primo organismo a devolvere che è spazzatura perché abbiamo visto che ogni cosa era là allo stesso periodo e questi cosa sono? sono artropodi altamente complessi non vivono attualmente ma non c'è nulla per niente semplice in loro hanno scavato tane hanno tutto l'equipaggiamento di cui hanno bisogno questo è un nautilus un antico cosiddetto fossile vivente questa è la forma vivente questo è il fossile sono identici non è cambiato nulla se guardiamo gli organismi marini e vedete gli echinodermi come le stelle marine e la stella fragile e tutte queste creature c'è il fossile e c'è la forma vivente non è cambiato niente niente quando apparvero erano così ed oggi sono così questi sono alcuni dei fossili che possiamo vedere tutto è identico a ciò che è oggi niente è cambiato quindi dov'è la storia dal semplice al complesso non esiste o c'è oppure non c'è guardate questi crinoidi questi sono piccoli gigli di mare altamente complessi esattamente nel passato come sono oggi qui ci sono conchiglie nei reperti fossili conchiglie viventi questo è un fossile di tartaruga questa è una vivente nessun cambiamento nessun cambiamento di sorta fossili creature viventi identiche granchi a ferro di cavallo come erano presumibilmente milioni di anni fa oggi inalterati lingula milioni di anni fa inalterati c'è la canto questo è il pesce che fu scoperto in africa per la prima volta da smith e lui disse wow questo è un fossile vivente questa è la creatura che ha dato origine agli animali terrestri qui è come apparivano e siccome il passo dei piedi era fatto così potevano camminare oggi abbiamo molti pesci che possono farlo in aggiunta a questo tutti gli scorfani hanno come delle piccole zampe per muoversi sulle rocce quindi non vanno fuori sulla terra alcuni possono perfino fare dei balzi non è affascinante? guardate la dimensione di questo squalo è un fossile e questo è uno squalo moderno non esiste niente come questo oggi è gigantesco e questo è un dente di uno di questi fossili è enorme non c'è niente di questo genere che esiste oggi il terrificante squalo bianco è una sciocchezza paragonata a quel tizio davvero una sciocchezza questo è il Tuatara il famoso sfeno donte dalla Nuova Zelanda esattamente come oggi qui è nei reperti fossili e queste creature qui sopra come queste tartarughe giganti delle Galapagos testugini sono oggi esattamente come sono nei reperti fossili ora voglio parlare di queste creature queste meravigliose iguana dando loro un migliaio di anni per crescere quanto diventerebbero grandi wow probabilmente riempireste una stanza con esse sarebbe spaventoso o no? cosa mangiano queste creature? feroci dinosauri? beh se uno scienziato li disseppellisse direbbe proprio questo li raffigurerebbero pieni di sangue in un museo vero? cosa mangiano? alghe questo mangiano questo mangiano nessuno lo indovinerebbe mai questo mangiano oppure le iguane terrestri delle Galapagos sì alcune di loro mangiano piante altre mangiano carne le vedremo in un'altra conferenza i mostri Gila armadilli opossum coccodrilli sono esattamente come sembrano oggi questo è ciò che sembravano nel passato nessun cambiamento niente di niente e pensiamo che i coccodrilli siano grandi? sapete una cosa i coccodrilli che vivono oggi sono giocattoli comparati a cosa esisteva nel passato volete vedere la differenza? vi mostrerò la differenza guardate queste grandi creature come gli armadilli questo è un coccodrillo fossile e questo è un moderno coccodrillo completamente sviluppato nessuna differenza nell'anatomia quindi qui non c'è evoluzione c'è solo una grande differenza e qual è? questo qui è proprio enorme è così grande che non potete nemmeno immaginare se passate attraverso questo coccodrillo saprete di aver visto un coccodrillo è spaventoso ora perché è così grande? perché è così grande? è l'evoluzione? cosa insegna l'evoluzione? da dove vieni a dove vai? piccolo a grande ma questo è ciò che ora abbiamo andiamo da un gigante ad un modellino della dinky espongo che sono vecchio dicendo modellino della dinky non esistono più modellini lego va bene andiamo avanti cosa è accaduto? perché questa creatura è così grande? forse le circostanze nel passato erano ideali c'era molto cibo intorno ogni cosa era perfetta la temperatura era perfetta e loro avevano molto tempo per crescere senza nessuno che li cancellasse dalla faccia della terra ed eccole lì enormi enormi questa non è evoluzione sembra evoluzione siamo andati in discesa diamo un'occhiata al mondo degli insetti questo insetto è un fossile è un ala dritta quindi la scienza dice è primitivo primitivo perché primitivo? perché l'ala dicono è una squama modificata grande problema grande problema perché una squama ed un'ala non si sviluppano dallo stesso strato anatomico grande problema non potete avere una che si sviluppa dall'altra ma d'altronde devono ottenere l'ala da qualche parte quindi è una squama modificata ora questa creatura non può ripiegare le proprie ali ovviamente se puoi ripiegare graziosamente la tua ala e riporla o nasconderla sotto una copertura sarebbe una caratteristica avanzata giusto? quindi deve essere primitiva pensate solo alla forma mentale quindi cosa è questa? alla dritta non può essere ripiegata piegata riposta nascosta primitiva o avanzata? primitiva è così? no si sono presentate nello stesso periodo quindi di nuovo viene fuori soltanto dalla mente degli scienziati o questa vespa perfettamente formata ma le ali sono dritte primitiva? no perché dovrebbe esserlo oppure questo qui il fossile qui il moderno se guardate a questa creatura qui sopra direste bene è primitiva perché non ha ali richiudibili sapete che gli scienziati hanno usato la libellula per sviluppare l'elicottero e l'elicottero non può fare una frazione di quello che può fare questa creatura questa creatura può andare tutto quello che vuole fare è magnifica il suo progetto è assolutamente stupefacente non possiamo nemmeno copiarlo è perfetto ma è primitivo? perché? perché l'ala è dritta e se puoi ripiegare le tue ali come questa come un'ala di scarabeo è progredita? quindi perché i reperti fossili delle libellule e degli scarabei compaiono nello stesso tempo ho che dire di questo problema perché troviamo nei reperti fossili degli alveari di api molto prima che ci fossero piante con fiori? cosa mangiavano? hanno aspettato 50 milioni di anni per avere qualcosa da mangiare? penso che il problema sia qui questa è un'amantide religiosa e questo è il fossile invariato niente è cambiato qui avete l'occhio di un insetto una delle strutture più intricate conosciute nel mondo moderno ovviamente l'occhio funziona in modo totalmente differente dal nostro il nostro occhio è già un incubo per gli evoluzionisti ma questo occhio è molto più di un incubo perché è composto da piccoli specchi perfettamente sagomati ed ognuno di loro deve assolutamente essere perfetto per funzionare non puoi ottenerlo migliorandolo nel tempo ci sono centinaia di loro che riflettono la luce in modo assolutamente perfetto infatti la NASA ha usato quest'occhio per progettare gli specchi nel telescopio a riflessione che usano nello spazio hanno usato questo come modello è assolutamente perfetto come ci è arrivato? così com'è? perché non esiste una via incrementale nella quale possa funzionare o così oppure no abbiamo una qualunque prova che ci sia stata un'evoluzione nell'occhio? no questo è probabilmente il più antico insetto che potete trovare e qui c'è l'occhio è dentro l'ambra è un fossile perfetto perfetto nessun cambiamento qui c'è un altro insetto nell'ambra sono invariati qui c'è un grillo nell'ambra invariato non c'è alcuna prova per qualsiasi cambiamento qui c'è una formica nessuna meraviglia che questa formica dica all'altra non posso crederci Fred 60 milioni di anni da quando ti conosco e non sei cambiato per niente quindi è vero quello che la scienza ci sta dicendo che siamo evoluti dal semplice al complesso è vero no gli scienziati stessi dicono che ogni cosa fin dal principio è stato complesso non c'è dal semplice al complesso non esiste è vero che proveniamo dal piccolo al grande no proveniamo dal grande al piccolo quindi siamo andati in salita o in discesa siamo andati in discesa è vero che proveniamo da una scarsa diversità ad un'altra diversità no l'estinzione è rimosso molto e molto e molto e molto dal pianeta e gli scienziati là fuori nel mondo stanno urlando e dicendo che se non fermiamo questo non lasceremo niente proveniamo da un'alta diversità verso una scarsa diversità è vero che gli animali sono apparsi gradualmente nel tempo oppure sono comparsi repentinamente cosa dice la prova scientifica che abbiamo discusso in precedenza sono apparsi repentinamente allo stesso tempo ora pensate a queste cose non le sto inventando ero un evoluzionista credevo nell'evoluzione infatti odiavo Dio non volevo avere niente a che fare con Dio non avevo alcuna scelta se non essere evoluzionista perché avevo lasciato Dio fuori dall'equazione non avevo scelta e quindi non volevo essere un ipocrita anche se ero un evoluzionista ho dovuto cambiare dal gradualismo all'equilibrismo equilibrismo punteggiato perché perché i reperti fossili non mi dicevano quello che avrebbero dovuto dirmi non lo facevano non potevano farlo come avete visto dalle citazioni scientifiche stesse dovevo cambiare allora qual è il grande problema se ogni cosa era alla fine dal principio non c'è differenza tra quello e la creazione se non per ciò che avete lasciato fuori cosa? Dio tutto qua questa è l'unica cosa che abbiamo lasciato fuori Dio loro lo chiamano improvviso scoppio di creatività evolutiva e hanno soltanto lasciato fuori Dio dall'equazione tutto qui quindi c'è un Dio o non c'è un Dio? beh decidete voi questa è una velvicia le velvicia sono piante che non muoiono crescono e crescono e crescono fino ad essere molto molto vecchie quindi abbiamo delle velvicia giganti in Namibia nel deserto e loro ci raccontano da quanto tempo ci sono in giro le cose se andate agli alberi più vecchi del mondo il bristlecone pine è famoso per questo il più vecchio in circolazione quanto è vecchio? beh la più vecchia velvicea in giro è tra i 4.000 e i 5.000 anni alcuni anni fa dicevano oh 6.000 ma poi hanno compreso che non stavano riferendosi con accuratezza agli anelli strutturali e quindi oggi tutti concordano tra i 4.000 e i 5.000 anni è tutto oppure se andate nel Redwood National State Park cosa trovate? alberi giganti enormi e queste sono le prime generazioni di foreste vedete questi alberi sono sorprendenti perché la loro corteccia è incombustibile quindi persino se un fuoco distrugge la foresta l'albero sopravvive questa è una foresta della prima generazione quindi non c'era niente prima quanto vecchio è il più anziano sul pianeta? tra i 4.000 e i 5.000 anni se guardate i sistemi fluviali nel mondo avete il fiume Mississippi qui sopra viene giù e deposita qualunque cosa nel golfo del Messico e non c'è subduzione il fango non viene portato via è tutto ben circoscritto quindi tutto ciò che il Mississippi ha portato giù dov'è? nel golfo del Messico lo stesso con il Nilo tutto ciò che il Nilo ha portato giù dove si trova? nel Mediterraneo e se voi guardate la foce del Nilo avrete un enorme delta dove tutto il limo che è venuto giù i neoni è stato depositato ora essi conoscono esattamente quanto attualmente questi fiumi portano giù perché le persone hanno costruito delle dighe nei fiumi e le dighe alla fine si riempiono con il limo e quindi non è più una diga diventa inutile quindi devono capire se sia economicamente fattibile per costruire una diga come quella ed il modo in cui lo fanno è mettere delle reti e degli strumenti nell'acqua per misurare quanto materiale viene giù ogni anno e lo fanno per un certo numero di anni per determinare quanto tempo passerà prima che la diga diventi inutile ciò ha senso non è vero? e lo hanno fatto con il Nilo e poi è stata presa una foto dal satellite e determinato quanto il Nilo ha trascinato giù durante tutta la sua vita sapete una cosa? non c'è nessun fiume che sia vecchio più di 4.000 o 5.000 anni non esiste non ci sono piante che siano più vecchie di 4.000 o 5.000 anni e mi direte ma tu wow 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 noi abbiamo le prove archeologiche abbiamo prove dalle nazioni dalla Cina che ogni cosa è in giro da un tempo più lungo di questo sì quando ero un bambino mi è stato insegnato così quando abbiamo fatto egitologia cosa hanno detto? l'Egitto era in giro per quante migliaia di anni prima di Cristo ed allora mentre le prove venivano ammucchiate cos'è accaduto a queste date? cos'è accaduto? cos'è accaduto alle date in Cina? cos'è accaduto alle date in Egitto? cos'è accaduto alle date in Mesopotamia? cos'è accaduto loro? sono diventate più brevi e più brevi e più brevi e più brevi ed ora se qualcuno si azzarda a dire 3.000 avanti Cristo a proposito sono solo 5.000 anni metteranno un più o meno davanti perché sanno che in un paio di settimane il tempo si accorcia perché vedete nel passato si osava mettere i re in modo sequenziale dicevano quello regnava qui il successivo là 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 ed avevano una lunga lista di re ed un tempo lungo perché sapevano che questo re aveva regnato per tanti anni quell'altro per tanti anni un tempo lungo e allora un giorno hanno scoperto ops sì erano padre e figlio che regnavano nello stesso periodo oppure un padre e tre figli che regnavano nello stesso periodo ed il tempo si ridusse e quindi il tempo si ridusse e alla fine siamo arrivati ad uno scenario molto interessante prendete la storia d'Europa gente se fossimo in giro da milioni di anni perché si possono avere tracce della storia d'Europa soltanto per poche decadi secoli forse un millennio o due prima di Cristo e niente prima Inghilterra non c'era nulla su quell'isola nel 2000 avanti Cristo non è accaduto nulla quindi stiamo affrontando dei fenomeni molto interessanti e questi alberi sì sono enormi potete passarci in mezzo guidando una macchina ma la parte bassa è tutto ciò che è apparso allo stesso tempo ogni cosa era completamente formata non c'è prova del cambiamento da uno all'altro c'è una prova al massimo livello scientifico che una forma non ne abbia generata un'altra come loro insegnano nelle nostre scuole ogni singolo giorno e io credo che questi scienziati affrontano un solo basico problema ed è il rifiuto della divinità tutto qui questo era il mio problema rifiuto della divinità non ha nulla a che fare con la scienza la scienza si è spostata nel regno della fede e voi potete scegliere da voi stessi a chi volete credere la scelta è vostra ma non dovete sporvi a bugie per far sì che una teoria vada bene grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti